Come tutti gli anni siamo alla settimana della domotica e quest'anno abbiamo parlato del sistema termico a cappotto chiaramente applicato sulle condizioni migliori che possiamo richiedere oggi al mercato perché la situazione esistente del parco condominio non è ancora ben sviluppata. Si stanno affrontando tematiche in merito all'impianto termico, l'impianto di risparmio energetico e parliamo soprattutto di sistema termico a cappotto. Il sistema termico a cappotto è chiaramente fatto da una lastra isolante, da un sistema di rasatura armata e poi una finitura che va a creare uno strato di idrorepellenza e finitura e dare una tessitura, una finitura estetica sull'aspetto finale e gradevole dell'edificio. Il sistema a cappotto permette di correggere tanti ponti termici che sono causa anche poi di presenza di muffe interseziali e di presenza di muffe nelle zone tipo pareti nord, zone notturne, bagni eccetera dove c'è una forte condensa interna. Questo sistema chiaramente è già consolidato da anni, oggi il sistema sta avendo anche un secondo sviluppo perché chiaramente bisogna anche aumentare gli spessori, dunque si arrivano anche spessori importanti da 20-25 cm proprio per avere un edificio anche a alta performance e perfetto risparmio energetico.